La polvere rossa del Portogallo è sempre un terreno insidioso con cui confrontarsi. Le curve cieche e gli stretti passaggi che caratterizzano queste zone nascondono insidie che tutti i piloti sanno di non poter sottovalutare. Ora, vai, 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 tornate destra. Destra 3, sinistra 4, chiude, poi destra 4. Destra 4, sinistra 2, lunga, chiude. Destra 5, sinistra 4 e destra 3. Sinistra 4, chiude, intornate sinistra. Destra 2, apre e 40. Sinistra 4, salto, in destra 3, poi sinistra 4. Destra 4, diventa destra 2, poi sinistra 3. 80, apri, attenzione, attraverso acqua. Sinistra 3, in destra 2, lunga. Sinistra 2, non tagliare, in destra 4. Sinistra 5, in destra 2, chiude, barriera all'interno. 40, sinistra 4, in destra 4, attraverso acqua. Sinistra 6, in destra 6 e salto. Attraverso acqua, poi salto, in salto. Attenzione, sinistra 3, burrone all'esterno, apre, barriera all'esterno. Salto e destra 4, attraverso acqua e destra 4. Tornate sinistra, non tagliare, poi tornate destra. Sinistra 4, in 40, tornate destra, barriera all'esterno. E tornate sinistra, molto stretto. Sinistra 3, sotto il ponte, chiude, poi tornate destra. Tornate sinistra, barriera all'esterno. Destra 6, in sinistra 4, attraverso acqua. 60, apri, tornate destra, muro all'esterno. Sinistra 3, in destra 4, lunga. Sinistra 4, e destra 4, attraverso acqua. Sinistra 4, burrone all'esterno. Tornate sinistra, bocce all'interno e tornate destra. Sinistra 3, in destra 2, poi sinistra 3. 40, apri. Sinistra 5, in destra 4, poi tornate sinistra, barriera all'esterno. Dentra 2, in sinistra 3, attenzione, barriera all'esterno. Destra 4, stai al centro, chiude, tutt'osso. E 40. Sinistra 2, in destra 5. Tornate sinistra, barriera all'esterno. Tornate destra. 40, poi sinistra 4, e sinistra 6, in tornate destra. Sinistra 4, abri. 40, destra 4, in tornate sinistra. Destra 3, chiude, burrone all'esterno. Sinistra 3, in destra 4. Tornate sinistra, e 40. Destra 5, in sinistra 5, e 40. Ponte, poi destra 5, in sinistra 5. Attenzione, tornate destra. Sinistra 6, in destra 6, in sinistra 3, in destra 3, taglia. Sinistra 6, 40, attraverso acqua. Poi sinistra 3, in destra 3, chiude. Sinistra 5, diventa sinistra 3, in destra 3. Sinistra 3, in sinistra 3, in sinistra 6, in destra 5. Poi sinistra 2, chiude. Destra 5, e sinistra 6. 40, vai al centro, poi destra 5. Sinistra 5, attraverso acqua, e destra 6. Sinistra 4, e destra 4, in sinistra 2. Apre, destra 5, in sinistra 5, diventa sinistra 3. In sinistra 3, sinistra 2, in tagliare, in destra 6, lunga. 40, tornate destra. 40, sinistra 3, in destra 4. Tornate sinistra. Vai in mezzo, tornate destra. Sinistra 5. Poi sinistra 3, in destra 3. Sinistra 3, in destra 4. No, in sinistra 5. Destra 3, in sinistra 3, chiude. Destra 6, in sinistra 6, e destra 2. Non tagliare. Sinistra 5, e destra 5. Sinistra 3, lunga, attraverso acqua, e destra 4. 40, destra 3, in sinistra 3. 40, vai a destra, sinistra 3, e destra 3. Poi sinistra 6, in destra 3, e sinistra 3, in destra 4. Sinistra 4, attraverso cancello, e sinistra 3. Tornate destra, intornate sinistra. 40, strettoia, in sinistra 2. Molto stretta, apre, intornate destra. Sinistra 3, attraverso cancello. Poi destra 3, destra 4, in sinistra 4. Apri, in sinistra 3. Sinistra 4, in destra 4, in sinistra 3. Non tagliare. Dentra 4, in sinistra 4. Poi destra 2, non tagliare. Sinistra 3, lunga. In destra 4, in sinistra 4. In destra 4, in sinistra 3. Pringe, 80. Salto, attraverso acqua. Poi salto, attraverso acqua. In destra 3, giro all'esterno. In sinistra 4. Poi destra 4, in sinistra 5. Chiude. Diventa sinistra 3, e 40. Destra 3, lunga. In sinistra 3, lunga. 40, traguardo. Treve, in sinistra 3, lunga. Chiude. Petra 4, in sinistra 4, in sinistra 4, in sinistra 3, lunga. Chiude. Trimona. Grazie a tutti.